Ciao ragazzi siamo a Foggiola e qua con noi abbiamo bella Alex che ci farà vedere come si guida sui trail di casa propria mi raccomandi non troppo veloce posso salutare un amico? certo ciao Fagiano chi è Fagiano? mio compagno ah ok mio compagno pensavo fosse il fidanzato mamma mia bello bello che ritmo cioè meno male che vi abbiamo detto tranquillo perché è partito a 200 all'ora anche perché io questa discesa la conosco abbastanza bene e voglio vedere proprio i punti in cui Alex mi stupisce questa è la discesa che abbiamo fatto per l'articolo quella delle bici dei campioni ricordati che in salita non vado un cazzo eh a raggello ok questo pezzo è fantastico perché molli tutto fino adesso le traiettorie sono più o meno le stesse bravo quel passaggio lì che posto ragazzi Coggiola proprio noi ci abbiamo lasciato il cuore che è divertentissimo vai bro bello sto taglio qui non l'avevo mai visto infatti ha preso parecchio fa molto molto show chiaramente dal meglio di sé che culo che mi faccio bello quel passaggio ma lì ha perso bello più piano ok qui raga parlo poco perché mi devo veramente concentrare quella curva l'ha fatta molto molto bene bellissimo bello questo passaggio questo pezzo è troppo pinza un casino Alex usa tantissimo il posteriore e non so quanto vi convenga sempre di farla di traversa sicuro che è veloce bella frate bella puttana 2000 me l'hai fatta fare complimenti e ringraziamo Ale sul lupato che due settimane fa qui ha vinto la sua prima super enduro secondo è arrivato suo fratello che scenderà adesso vuoi dire qualcosa agli amici della cassettina? ciao a tutti ragazzi e venite a Coggiola che merita non guardate lui è il nostro fotografo Matteo Cappè guarda che bello il canarino e poi abbiamo il fratello Danny bella e pilenta per chi non si accontenta è tutto ciao belli ciao